Un aiuto concreto per sostenere l'azione solidale del Banco Alimentare Campania Ollus, la Bioplast di Fisciano, ha scelto di donare un milione di shoppers per alimenti all'associazione benefica che ogni mese assiste più di 152.000 famiglie in 210 comuni campani. I sacchetti ecosostenibili saranno utilizzati dai volontari per distribuire beni alimentari di ogni genere alle persone e alle famiglie bisognose che vengono assistite dal Banco Alimentare. Il fondatore dell'azienda Gerardo Gambardella e il direttore commerciale Marco Gambardella hanno consegnato i sacchetti al direttore del Banco Alimentare Campania, Roberto Tuorto. Abbiamo ritenuto di prendere parte di questo capitolo e di versarlo, di produrre un prodotto che sia utile per il Banco Alimentare, che arriva alle famiglie, arriva senza inguinare l'ambiente, arriva nelle case delle persone dove possono recepire e avere quello che in questo momento ne hanno bisogno. Siamo davvero onorati di questa collaborazione, una grande azienda che ha grande attenzione all'ambiente come noi, ma soprattutto come è scritto qui nello shopper, alla bontà, all'ambiente e alla solidarietà. Oggi purtroppo l'età di chi ha necessità di solidarietà si inizia ad essere elevata, quindi anche l'età di intorno ai 30 anni che mettono su famiglia e questo dobbiamo dare sostegno per una vita migliore, non solo ai giovani attuali, ma a coloro che vogliono investire anche verso figli per un futuro migliore.